Tu mi dai, io ti do, poi la gente va in giro, si vanta... Ma più solo lui o più solo Giulio? Sono tutti soli, io comincio già a sentire la solitudine... Anche tu sei sola? Piccolo, 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 sì... Sto bene da sola, mi gestisco la mia vita... Poi all'improvviso vengono fuori gli amici che neanche ti aspetti, quello che non senti da tre anni, che hai incontrato per caso a Gallarate durante una mostra e adesso lavora con i bargoni della stazione... Non l'ho mai visto e devo dire anche una cosa, che secondo me gli uomini, le donne, i personaggi bisogna conoscerli dal vivo... Per esempio ho conosciuto Marroni e devo dire che dal vivo è molto molto meglio che non in televisione... Gena Gnocchi, anche lui è veramente un uomo interessante, affascinante... Ti metto questo di Berlusconi? Non l'ho mai visto... Vabbè, ma leggi i giornali, su... No, io devo sentirlo, è una persona, devo parlarci, devo cogliere dal sorriso, dallo sguardo... Non ti risponde? Guarda che se tu fai solo il Bremonti ti risponde... No, ma non si fanno queste cose... Ti risponde? Ma come non le fai? No, no... Lei facevi continuamente? Piuttosto se voglia lui mi telefona, mi invita, gli porto un tortino, dico a tutti che ci sono, porto la mia addetta stampa che fa da testimone e lo guardo negli occhi e gli parlo... Ma io le persone devo... Anche voi... Via, siete una voce... Come una voce? Sì, adesso siete delle persone... Sì, no... Ah, una voce per te? Sì... Ah, eravamo una voce... Come una voce Michele... Adesso siete... Siamo sim... Sim... Simpecole... Simpecole... Siamo simpecole... Sì...